pronto a balzare. Bilbo smise quasi di respirare e si rigidì anche lui. Era disperato, doveva andarsene da quell'oscurità orribile mentre gli rimaneva ancora un po' di forza. Doveva combattere, doveva pugnalare quell'affare obbrioso, cavargli gli occhi, ucciderlo. Ucciderlo? No, non sarebbe stato un combattimento leale. Lui stesso era invisibile, Gollum non aveva una spada, Gollum non aveva mai minacciato di ucciderlo, né aveva ancora tentato di farlo, ed era infelice, solo e smarrito. Un'improvvisa comprensione, una pietà mista a orrore, pervase il cuore di Bilbo. Rapida come un baleno, si levò davanti a lui la visione di infiniti, identici giorni, senza luce o una speranza di miglioramento. Pietra dura, pesce freddo, strisciare e sussurrare. Tutti questi pensieri gli passarono davanti in una frazione di secondo. Tremò. E poi tutto a un tratto, ancora in una frazione di secondo, come ricaricato di nuova forza e risolutezza, saltò in avanti. Non era un gran salto per un uomo, però era un salto nel buio. Balzò dritto sopra la testa di Gollum, un balzo di un metro di altezza e due di larghezza. Per fortuna non lo sapeva, ma c'era mancato poco che gli rompesse il cranio contro la bassa volta del passaggio. Gollum si girò di scatto, alzandosi mentre lo Hobbit volava sopra di lui. Ma troppo tardi, i suoi artigli afferrarono solo aria e Bilbo, ricadendo agilmente sui suoi solidi piedi, si precipitò di corsa giù per la nuova galleria. Non si voltò a guardare. Dapprima ci furono sibili e imprecazioni alle sue calcagna, poi silenzio. Tutto a un tratto risuonò un urlo da agghiacciare il sangue, pieno di odio e disperazione. Gollum era stato sconfitto, non osava avanzare oltre. Aveva perso, perso la sua preda e perso, soprattutto, l'unica cosa a cui avesse mai tenuto. Il suo tesoro. Il grido gli fece balzare il cuore in gola, ma Bilbo non si fermò. Debole ora, quasi come un eco, ma minacciosa, la voce lo raggiunse da dietro. Ladro, ladro, Baggins! L'odiamo, l'odiamo, l'odiremo per sempre! Poi scese il silenzio, ma anch'esso sembrò minaccioso a Bilbo. Se gli orchi sono così vicini da fiutarli, pensò, allora devono averlo sentito urlare. Adesso devo fare attenzione o questa strada mi porterà verso il peggio. Il passaggio era basso e fatto alla bella e meglio. Non fu troppo difficile per lo hobbit, tranne quando, nonostante tutta la cautela, sfregò i suoi poveri piedi su piedre a guzze che sporgevano dal terreno. Un po' basso per gli orchi, almeno per quelli grossi, pensò Bilbo, non sapendo che perfino quelli grossi, gli orchi delle montagne, potevano procedere a gran velocità curvandosi fino a toccare il pavimento con le mani. Presto il passaggio ricominciò a salire e divenne veramente erto. Ciò costrinse Bilbo a rallentare. Finalmente la salita finì. Il passaggio faceva una curva e improvvisamente riprendeva a scendere. E laggiù, alla fine del breve pendio, egli vide, sottile, dietro a una curva. Una pallida luce, come quella all'aperto. Bilbo cominciò a correre, arrancando alla massima velocità consentitagli dalle sue piccole gambe. Però superò l'ultima curva e arrivò in un luogo aperto dove la luce, dopo tutto quel tempo passato al buio, gli sembrò così vivida da abbagliare. In realtà si trattava soltanto di un raggio di sole che penetrava nel varco, dove una grossa porta, una porta di pietra, era stata lasciata socchiusa. Bilbo sbatté le palpebre e improvvisamente vide gli orchi, orchi armati da capo a piedi, con le spade sguainate, che sedevano proprio sulla soglia, sorvegliando con gli occhi bene aperti la porta e il passaggio che portava ad essa. Stavano allerta, in guardia, pronti a tutto. Lo videro ancora prima che lui vedesse loro. Sì, lo videro. Fosse un caso o l'ultimo tiro giocato all'anello prima di cambiare padrone? Fatto sta che Bilbo non lo aveva più al dito. Con urla di gioia gli orchi si avventarono verso di lui. Uno spasimo di paura e di smarrimento come un eco dell'infelicità di Gollum colpì Bilbo che, dimenticando perfino di sguainare la spada, si ficcò le mani in tasca. Ed eccolo ancora lì l'anello, nella tasca sinistra, e Bilbo lo infilò subito al dito. Gli orchi si fermarono di botto. Non potevano vedere traccia di lui, era svanito. Urlarono il doppio di prima, ma non con la stessa gioia. Dove? Risalito il passaggio, strillarono alcuni. Di qua, gridò uno. Di là, gridarono altri. Attenti alla porta, ringhiò il capitano. I fischietti fischiarono, le corazze cozzarono, le spade risuonarono, gli orchi imprecarono e inveirono e corsero di qua e di là, cadendo l'uno sull'altro infuriandosi più che mai. Ci fu un terribile clamore, scompiglio e confusione. Bilbo era spaventato da morire, ma ebbe il buon senso di capire cosa era successo e di strisciare dietro una grossa botte, in modo da togliersi di mezzo ed evitare che lo urtassero per sbaglio. Devo arrivare alla porta, devo arrivare alla porta, continuava a ripetersi, ma passò un bel po' prima che si azzardasse a tentare. Allora fu come un orribile gioco a mosca cieca. Il posto era pieno di orchi che correvano tutto intorno e il povero piccolo Bilbo si scansò di qua e di là. Fu colpito da un orco che non riuscì a capire contro cosa avesse urtato, sgattaiolò a quattro zampe, scivolò appena in tempo tra le gambe del capitano, si rialzò e corse alla porta. Un orco l'aveva quasi chiusa, ma un po' di spazio restava ancora. Bilbo si sforzò, ma non riuscì a muoverla, cercò di infilarsi attraverso lo spiraglio, spinse, spinse, spinse e rimase incastrato. Era una cosa tremenda. I bottoni gli si erano impigliati tra lo spigolo e lo stipite della porta. Poteva guardare fuori, c'erano pochi gradini che correvano giù in una stretta valle tra le alte montagne. Il sole sbucò da dietro una nuvola e brillò luminoso sulla parete esterna della porta. Ma Bilbo non riusciva a passare. A un tratto, all'interno, un orco gridò «C'è un'ombra vicino alla porta! C'è qualcuno fuori!» A Bilbo balzò il cuore in gola. Dette uno strattone terribile. I bottoni schizzarono in tutte le direzioni. Era riuscito a passare. Strappando giacca e panciotto, balzò giù per i gradini come una capra, mentre gli orchi sconcertati raccoglievano sulla soglia i suoi bei bottoni d'ottone. Naturalmente si affrettarono a corrergli dietro, urlando, aizzandosi e dandogli la caccia attraverso gli alberi, ma gli orchi non amavano il sole, che rende molli le gambe e fa girar loro la testa. Non riuscirono a trovare Bilbo, che con l'anello al dito sgusciava dentro e fuori l'ombra degli alberi, correndo veloce e silenzioso, evitando la luce diretta del sole. Così, ben presto, tornarono indietro a sorvegliare la porta, brontolando e imprecando. Bilbo era scappato.